Messina dove il tracciamento è saltato e 3.000 positivi risultano essere dei fantasmi e c'è una rete ospedaliera che rischia il collasso. I particolari nel servizio di Francesco Triolo. C'è anche la richiesta ufficiale. Ecco il documento, 5 pagine, inviata dal Presidente del Consiglio e a quello della Regione col quale il Sindaco Cateno Teruca ha richiesto l'istituzione della zona rossa per la città di Messina da martedì e sino al 31 gennaio. L'alto tasso di positività tra i tamponi eseguiti, il numero di posti letto insufficienti e le difficoltà nell'effettuare un tracciamento adeguato sono le motivazioni già più riprese avanzate da De Luca per istituire il lockdown in città. Decisivo anche il rapporto della Regione sull'incidenza del contagio durante le festività natalizie. Ad aumentare la preoccupazione anche la nota con la quale grazie all'operato dell'ufficio commissariale dell'Asp si è scoperto che 3.000 positivi del periodo antecedente al 22 dicembre sono stati caricati nella piattaforma soltanto dopo di questi, in sostanza, si sono perse le tracce nel frattempo. Quello ipotizzato da De Luca sarà un lockdown con regole di restrizioni simili a quelle della scorsa primavera. Non ci sarà asporto, si chiude e si sta a casa, ha annunciato De Luca in una diretta Facebook di questa mattina. Contestualmente al provvedimento di chiusura, il Comune sta prevedendo anche una serie di aiuti alle imprese e alle famiglie come l'esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti del suolo pubblico e dell'acqua per sei mesi e l'estensione della Family Card sino a giugno. Sul fronte scuola invece l'intenzione è quella di prolungare la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado sino al 31 gennaio. La decisione finale spetterà comunque alla Regione che dovrà rispondere alla richiesta e stabilire se decretare per Messina la zona rossa.